Era la storia del Coriglietto di Pionoscio di Virginia. Giorgia Boella e Stella Bolini hanno 8 e 9 anni e sono le prossime compositrici. Hanno composto un brano insieme, un brano col pianoforte a quattro mani, vengono da Torino, quindi giocano in casa e frequentano la scuola diretta dal maestro Paolo Bergami, che è proprio il loro insegnante. Ecco che cosa scrivono a proposito della loro composizione. Hanno scritto una cosa molto seria. Questo brano si struttura attorno al tema principale, suggerito istintivamente da Stella, quindi quella che ha avuto lo spunto creativo iniziale, ed esprime chiaramente l'istinto ballerino delle lingue, con la loro freschezza e imprevedibilità. Un brano si intitola Danza, come dicevo, un brano per pianoforte a quattro mani. Signori e signori, un bel applauso per Giorgia Boella e Stella Bolini. Grazie. 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 Redenة. Grazie. 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 93. Grazie. Grazie. Grazie.